E' un catanzaro in ripresa secondo il centrocampista Stefano Maiorano, autore due settimane fa di un gol molto importante a Lecce che ha regalato ai suoi un pari oltre il novantesimo. Poi il successo sul Barletta dopo l'arrivo di Stefano Sanderra in panchina ed ora il catanzaro riacciuffa il sesto posto solitario. Per la squadra è una partita normale, ci sono i tre punti in palio e quindi andiamo là e cerchiamo di fare il risultato. Poi personalmente ha un sapore un po' diverso, ho fatto gli ultimi due anni che ho vinto gli ultimi due campionati quindi ha un sapore diverso. Sono passati da quando eravamo con il mister appena cinque giorni quindi comunque è presto per dire certe cose. Poi sono stato pure squalificato quindi io l'ho fatto la partita a Lecce che comunque non c'era il mister Sanderra ma c'è stato Massimo D'Urso. Nella posizione giocando a tre l'anno scorso abbiamo fatto quasi tutto l'anno con un 3-5-2 quindi bene o male con un centrocampo a tre io mi trovo bene. La Juve Stabia noi abbiamo affrontata la prima parte di campionato che loro sono parte in ritardo ma noi lo sapevamo che la Juve Stabia era una delle candidate comunque a lottare per il primo posto. La Casertana ha una buona squadra secondo me bene o male il campionato con cui sta allineando c'è la Salernitana che prima c'è una buona squadra c'è il Lecce, il secondo se non sbaglio. Secondo me c'è Benevento e poi Lecce ma secondo me Lecce è un pochino superiore a queste qui.